David Cameron ha votato presto stamattina in un seggio installato a poche decine di metri da Downing Street. Il Premier era accompagnato dalla moglie Samantha. Cameron aveva promesso in campagna elettorale che avrebbe indetto un referendum su Brexit. Lo ha fatto e una volta ottenute alcune concessioni da Bruxelles si è schierato a favore del no, cioè il voto per rimanere nell'Unione Europea. Dovesse vincere il sì, il Premier si troverebbe probabilmente ad affrontare un altro referendum, quello scozzese. Nicola Stargeon, a capo del governo autonomo, ha detto che in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea chiederebbe di rifare il referendum con il quale la Scozia aveva confermato la propria adesione al Regno Unito. A favore della permanenza nell'Unione Europea, anche Jeremy Corbyn, il leader laburista, ha votato nella sua Holloway. E militava per il no anche Joe Cox, deputata laburista uccisa giovedì scorso. Un evento, nel suo ricordo, si è tenuto ieri a Londra e il marito ha ricordato che sarebbe stato quello il suo 42esimo compleanno. La sua uccisione ha condizionato la campagna elettorale, determinando prima un giorno di sospensione e poi un abbassamento generalizzato dei toni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.